Siamo con Marco Manera, titolare del Driving Simulation Center di Lecce che si trova all'interno degli uffici dell'Automobile Club di Lecce. Ciao Marco! Ciao a tutti! Senti Marco, potresti raccontare brevemente come hai deciso di aprire il Driving Simulation Center? Ho deciso di aprirlo da un bisogno. Il bisogno era quello di potersi allenare a costi molto contenuti, allenarsi parecchie volte, io ad esempio faccio rally, quindi non avendo sponsor a disposizione per potermi allenare nella realtà, ho deciso di intraprendere quello che è il virtuale, il sim racing. Quindi mi sono fatto una piccola postazione a casa e comunque negli anni ho visto che mi è servito veramente tanto, poi andando a vedere i risultati che ottenevo nelle gare o anche l'allenamento che mi rendevo conto di aver fatto. Quindi da lì, oltre ad aver visto comunque l'annuncio di Nicola Trevillino, quindi il Driving Simulation Center di questa opportunità lavorativa, mi sono anche reso conto che poteva essere un servizio che potevo offrire a tutte le altre persone e quindi ho deciso di mettere in piedi questo centro di simulazione a Lecce. Perfetto, una volta che tu hai capito bene come funzionava il meccanismo con Nicola, sei entrato in contatto con noi. Com'è stata l'esperienza di acquisto dal momento in cui ti abbiamo consegnato il preventivo e fino a quando hai ricevuto i simulatori che ti sono stati spediti sui pallet? Allora, diciamo che per colpa mia è stata un parto, per i tempi, causa mia e quindi sono stato io, poi sono uno che quando vuole qualcosa lo vuole subito. Se stiamo parlando poi di simulatori di questo livello, io non vedevo l'ora di poter mettere le mani sopra, anche perché appunto da sim driver che sono, volevo proprio andare a provarli e potermi allenare io per primo su questi simulatori. Quindi è stato tutto perfetto, diciamo tu sei sempre stata una persona fantastica, a me hai fatto il preventivo, hai sempre cercato di tra virgolette accontentarmi su tutte le richieste che ti facevo, essendo io molto pignole e quindi volendo tutte le cose fatte veramente bene su questo, non posso lamentarmi, anzi ancora grazie. Devo dire che è filato tutto perfettamente, dall'ordine a quando sono arrivati qua, al montaggio e tutto quanto, è stato tutto veramente semplice, plug and play. Ok, adesso poi ci arriviamo anche con una serie di altre domande. Comunque quindi diciamo che al di là del fatto che tu hai dovuto perdere un po' di tempo, ma perché c'erano delle problematiche che dovevi risolvere, c'era anche il discorso della location. Sì, ma poi c'è stato a ricordo anche il discorso della location, dell'opportunità che poi hai avuto di entrare fisicamente all'interno dell'Automobile Club di Lecce, che da un punto di vista anche dell'immagine, legare il sim racing direttamente con l'Automobile Club d'Italia, AC Sport, eccetera, eccetera, immagino che sia stato addirittura, abbia ripagato tutti i tuoi sforzi, tutte le tue attese, e per i tribunamenti che hai dovuto avere per tutto questo periodo. Perché immagino che questa cosa che poi è venuta fuori quasi alla fine, perché mi ricordo che mi avevi detto Andrea, guarda che stiamo facendo questa cosa, probabilmente riusciamo a concluderla, poi è stata un'esplosione di opportunità. Sì, perché essere a fianco, anzi direi all'interno di ACI, affiancati da loro, perché comunque mi affianco non è nulla. Uno, la credibilità che dà a questo sport, a questa disciplina, essendo ancora, non perché non è credibile, ma perché non è ancora conosciuta a livello italiano, essere dentro ACI è un fattore fondamentale, perché fa capire alle persone che non stiamo parlando di giochi, ma stiamo parlando di una disciplina, di uno sport, più di qualcosa che può servire veramente dal pilota che si vuole allenare, reale, al pilota virtuale, ma anche alle persone, per imparare a gestire una macchina, quindi sul livello di sicurezza, soprattutto in questi tempi, con tutto quello che si sta sentendo. Diventa una cosa veramente fondamentale, riuscire a imparare in un luogo sicuro che è il simulatore. Ottimo, infatti è una cosa propedeutica e sono molto contento che tu sia riuscito ad avere questa opportunità e di svolgere questo tipo di lavoro all'interno di questo contesto. Allora, veniamo un attimo ad alcune domande che sono fondamentali per tutte le persone che in questo momento magari ci stanno ascoltando e che sono interessate ad aprire un centro di simulazione, Driving Simulation Center. Le domande sono tre. Le prime sono, i simulatori sono complicati da utilizzare? Richiedono molta manutenzione? Come ti sei trovato con la nostra assistenza? Partiamo dalla prima. I simulatori sono complicati da utilizzare? No. Credevo all'inizio che potessero essere un pochino più complicati, ma poi con l'esperienza, mettendolo in mano a persone che veramente non l'avevano mai utilizzato, mi sono reso conto di quanto sia semplice. Ovviamente non per trovare il tempo più veloce, ma già utilizzati la prima volta dopo dieci minuti di guida con un istruttore o con qualcuno di fianco che ti dà dei primi consigli, diciamo, su cosa fare, sono veramente semplici da utilizzare e ti regalano sempre emozioni. Visto che sono passati, praticamente adesso dunque abbiamo aperto a fine giugno, poi hai avuto quei 15 giorni di pausa per le vacanze, sono circa due mesi e mezzo più o meno che sei aperto. Una delle domande che spesso ci fanno è, ma richiedono tanta manutenzione, devo spenderci del tempo, devo spenderci dei soldi? Qual è la tua opinione in proposito? L'unica, tra virgolette, manutenzione che ho fatto io adesso, essendo pignolo, gli unici interventi sono stati quelli di sistemarlo per come li voglio io. Quindi a livello di manutenzione vera e propria, per rotture ed altro, niente. Per adesso io non li ho ancora toccati e non credo li toccherò perché si vede già è un prodotto molto valido. Il resto sì, è stato solamente come volevo il mio setup, quindi sono piccole correzioni che ovviamente un simulatore si costruisce sulla persona. Perfetto, perfetto. Tu però hai avuto anche comunque occasione di avere contatti con la nostra assistenza. In questa fase, come ti sei trovato e come reagisce il servizio di assistenza? Mi viene in mente una parola ed è velocissimo. Proprio l'altro giorno non ho fatto in tempo a scrivere il messaggio sul gruppo di assistenza che ho ricevuto subito la chiamata, quindi è proprio un'assistenza tempestiva. Sempre preparati e professionali, sono sempre riusciti quelle poche volte che li ho chiamati, non tanto per problemi ma per una mancanza mia, in senso di ignoranza magari su qualcosa che doveva essere fatto in quel modo, sono sempre riuscito a risolverlo in tempi record, quindi 10 e load meritatissimo. Grazie, grazie che anche i miei ragazzi saranno felici di questo. Prima di farti l'ultima domanda, voglio fare una premessa. Chi decide di investire in un driving simulation center non dovrà preoccuparsi di preparare o regolare i simulatori, cioè tu in pratica quando hai ricevuto la merce non ti sei dovuto mettere lì ad attaccare i cavi, salvo il collegamento semplice degli ultimi cavi che c'erano, ma i simulatori ti sono stati recapitati praticamente finiti. Non ti sei dovuto regolare la base del volante, non hai dovuto fare delle tarature, delle pedaliere, del sistema di movimento, che in realtà poi magari abbiamo fatto insieme perché poi abbiamo voluto fare la messa a punto indicata per te, però i simulatori da qua sono partiti e sono arrivati già funzionanti. In pratica tu hai dovuto semplicemente attaccare i monitor e accenderli, collegandoti un paio d'ore con noi per effettuare le ultime regolazioni da remoto e fare un breve ripasso sull'uso. Detto questo, ecco la domanda. I simulatori che tu hai ricevuto, quando li hai provati prima poi di sentirti con noi per le ultime regolazioni, erano in linea con le tue aspettative o si sono rivelati migliori? Sono rivelati molto migliori. Come ti diceva all'inizio, io non vedevo l'ora di provarli. Essendo poi un sim driver, sapevo cosa avevo comprato, sapevo cosa andava incontro perché mi ero informato tantissimo. Però devo dire che la qualità che ho trovato nel momento in cui mi è arrivato il prodotto non me l'aspettavo. È stato veramente sorprendente da SimMagic, alla ProSIMU. Sono dei prodotti veramente validissimi. Non lo dico solo io, ma anche tutti i clienti che poi mettono le mani dal volante, approvano la pedaliera come la pedana di movimento, rimangono veramente... Non credevano ci potesse essere già questa tecnologia. Quindi rimangono veramente contenti. Sì, devo dire che ha superato le aspettative. Bene. Senti, intanto non penso di avere altre domande particolari, salvo questa, mi riaggancio a queste cose che hai detto all'ultimo. Le persone si sono trovate subito molto bene. Adesso, a prescindere dal discorso del componente fisicamente montato, però nell'insieme tutto questo tipo di sistema ha soddisfatto anche l'aspettativa dei tuoi clienti che si sono ritrovati magari pensando ecco, questo è il solito videogioco magari un po' avanzato, in realtà a fare qualcosa di completamente diverso. Questo è poi, da quello che ho capito, è un po' il feedback che ti hanno dato i tuoi clienti. Sì, esatto. Perché, visto da fuori, poi credo, tutta la simulazione sembra molto semplice. Lo vedi girare, magari anche un po' più bravo la persona che sta guardando girare e dici sì, è molto semplice, salgo io, due curve, faccio lo stesso. Una volta però il cliente si siede, capisce subito. Già nel momento la prima cosa che dico io è provate il freno. Guardate e capite la forza, l'intensità che dovete usare per il freno. Già da quel momento dove ancora non hanno premuto l'acceleratore loro capiscono quanto sia non tanto complicato ma realistico. Ecco. Quindi sì, perché dopo, anche dopo dieci minuti io vedo che finiscono tutti completamente sudati, si rendono conto che ci vuole veramente tanto impegno per per andare bene, per fare un buon tempo, per far sì che non sia solamente un gioco che vai lì, fai due giretti e basta. Perfetto. Marco, non ti voglio rubare ulteriore tempo perché è già un orario che è prossimo all'apertura del centro e sicuramente avrai già lì un po' di persone che stanno aspettando. Io ti ringrazio perché ci hai dato fiducia e ti porto anche il grazie da parte del boss dei Driving Simulation Center che è Nicola Trivilina, per la fiducia nella sua idea e nel lavoro che abbiamo messo insieme io e lui per aiutarti a realizzare questo tuo desiderio. Ora ti lascio tornare dai tuoi clienti perché i tuoi clienti ti reclamano ma non prima però di chiederti di ricordare a chi ci ascolta dove ti trovi così con i tuoi contatti e l'indirizzo del centro. mi trovo a Lecce in via Orsini del Balzo 17 all'interno della sede dell'automobile Club Lecce ci potete seguire su tutte le pagine social quindi Facebook e Instagram la mail se volete non avete social è lecce c'è la Driving Simulation Center con VT e vi aspettiamo per poter provare questa nuova avventura che è il simresimo. Perfetto. Marco io ti ringrazio davvero tanto per qualunque cosa tu sai che o io o i miei ragazzi sono disponibili hai la chat dell'assistenza per qualunque domanda non ti preoccupare falla cerchiamo sempre di essere più veloci possibili con te abbiamo avuto fortuna siamo riusciti a risponderti quasi in tempo reale non succede sempre devo dirlo con tutta onestà perché purtroppo il lavoro è tanto abbiamo tante cose da fare abbiamo tanti clienti ma cerchiamo comunque sempre di darvi un'assistenza più veloce possibile e se non riusciamo a darvi una risposta proprio immediata però nel giro delle 24 ore vi risolviamo il problema quindi buon lavoro speriamo di non sentirci mai oppure di risentirci magari perché vuoi per un prossimo centro esatto no magari non solo per un prossimo centro ma perché vuoi allargare quelli che già hai quindi o inserirne un altro oppure upgradarli perché si possono upgradare i tuoi simulatori come sai e quindi in bocca al lupo con il tuo centro e a presto grazie ciao buon lavoro ciao grazie